Eeeesiii Porfavor che? 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 Che sta facendo? Che schiccia la catapulta? Hi guys, do you speak English? Why do you tell me to fuck off, man? I'm just asking if you speak English, man. Why you tell me to fuck off? unified alcuni termini italiani non li usare se non sai cosa voglio dire. Non ho mai rosicato per il semplice motivo che mi viene sbatto il cazzo di chi fa un cazzo di nucleare perché sono l'ultima cosa che voglio fare e che ritengo inutile. zitto zitto buffone muto clown clown zitto Fasson Fasson Parte dei casi Diciamo che ho un paio di anni indietro E io mi sono trovato a fare un lavoro Che in Italia ancora non era Non era diventato famoso In Terronia Quindi è proprio è stata tra le cose più difficili Che abbia mai fatto Mi sembra giusto Marzò Comunque questa chi l'ha ho fidato Io sono abbastanza positivo Anch'io devo dire la verità Certo non positivo come Sofia però Eoleee Scusa ma tu Ah no mi sa che è giusta Ragazzi guardate Instagram che si impegna tutti i giorni Per mettere quelle storie di merda Che fa sicuro che è una rottura di cazzi a farci Mamma mia come sono caduto bene Sembravo Kiev No Giamma È troppo presto Giamma È troppo presto Troppo presto Too early Too early Ma poi inizia a scherzare super sotto Puoi fare queste cose Ok Ma cosa andrebbe la prima volta al Cerbero Spammerai che è proprio la primissima volta che sei stato al Cerbero Nooo Ragazzi mi dissocio Oddio ti devi salire Porco Dio ma sei pazzo Ma io non ho ringraziato mezzo sub Non ho ringraziato Mi sono dimenticato Vabbè sti cazzi Ma appena si finisce sta gara senza più casca Quanti checkpoint so Vabbè ma è finita Sì Ma è easy per il boss del freestyle Sarese il boss del freestyle Guarda che fuderone porco Dio Invece è Secondo me è cattivissimo Fuderone ti prendi tifus di galano Porco di Gesù Cristo Questa gara di merda Che c'ha ste cose del cazzo Dove È arrivato sulla strada Ma è chiusa Che stai dicendo ma stai bene? Giamma dammi un po' di sdrogo Con questa erigia Ma pknn porti topolino? Tu un blues drogo Tu un blues drogo Tu un blues drogo E porco Dio non mi riesce Puoi chiedere al maestro Se dedicano di bestemmia Alla mia ragazza Marzo ho levato i bit Bella per i miei primi 100 bit Cuore rosso Guarda che secondo me Questo problema di cui stai parlando Guarda che è una roba tua già eh Questo è il topolino Che ti ha buggato Giusto Non so io Non so Mi arrendo Mi arrendo Alla superiorità di Streamlabs OBS Ho deciso Cioè si è buggato completamente tutto Senza un motivo Senza un motivo Boh Scaricato topolino Porn addiction Prima Senza un motivo Madonna Marzova 6.000 Q sei Orco Dio No 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 Thumblue no 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 Grande gara parkour con le Panto No Potrei bestemmiare 6 troioni Ah raga In tutto questo Ero mutato Porca Madonna Niente Sto cascata Che è sta roba Che è sta roba Che è sta roba Ma guarda se devo cadere Guarda se porco di Dio Ma praticamente fai la stessa cosa Ma un po' avanti e dietro Vabbè una cazzata Ma non si capisce Ma perché devo fare tutta sta strada Per andare a un checkpoint Che Non dico che Marzova Ci mancherebbe altra Ma fai fa un attimo Dei soldi Ma non di merda Subumano 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 Porca troia Ma dove devo Ah e adesso Ma quindi in realtà Non era buggata Con quella cosa Cioè non stavo buggando Era da fare Madonna le troie Si opera Ruteante Una stufa bollente Il tocus Cerca il vandalo Della matassa Lo fa tutto velocemente Mamma mia Quanto è forte Addirittura pazzo Mamma mia Si permette un'araba Si permette Addirittura Strepitoso Devi aspettare Porco dio Madonna Che numero che ho fatto Sono illogico sono Ma tu dove sei Marzo? Forse è più avanti Impossibile Nessuno è più avanti di me Forlè 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 Buttati di sotto Cadi Scemo Sei un cretino Sei un cretino Sei solo Vabbè Sì Non è possibile Ti giuro sulla madonna C'ho veramente C'ho C'ho Tre ictus Alle mani Mi spawnano Gli ictus Come Come quando Naruto Fa le copie Allora Marzo Io te lo dico Se sta gara Arrivo davanti a te Mi gifti Mi gifti Tu direi Se basta Con ste sub No 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 Mi gifti un braccio Un braccio? Mi serve un braccio in più Si Ho deciso Perché Voglio mettere Perché Sì sì Perché Allora Secondo me L'unico modo Per arrivare a 30.000 sub E che metto Che me taglio Un braccio in live Quindi mi serve Un braccio in live Quindi taglieresti il mio Sì Oppure il mio Te lo tieni Perché è superiore Sì Ma che è superiore Che c'hai in braccio Anziché Pensa che ho un po' di drogo In corpo Mi dici che cosa Che non riesci a fare Dai No no L'ho fatto fratello Ti sto anche per riprendere Con calma Amico mio Tempestata Diamantata Gesù Cristo Maledetta Adesso io vorrei sapere Come faccio a fare Senti Io sto fuori di testa A me A me A me M'hanno rinchiuso Sì E' gol tutto il giorno So pazzo So pazzo No Ah sì Sto a provare A fare sta gara La sto a provare In modi veramente furiosi Sì Saltate sul mio cazzo Saltate sul mio cazzo Saltate sul mio cazzo Spam di R2 Come spam di R2 No no Manu Ma perché Mo ci avrò lasciati Intasata di R2 Perché Dovete ragionare Sulle cose Ecco Arrivano Ho deciso Sì Ma no Ma no Ma no Ma che stai facendo Ma levati dai coi Porco Dio Ma che è lo scorno Non ce la farai mai Tra l'avano Tra l'avano Tra l'avano Grazie andrei Grazie di te bro Ma non ti supererà fuori Leo Lo sai Frate 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 Sono Quattro minuti Che ho nell'orecchio 2R 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 12R 2R 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 ricondividere tipo due volte donna i beats due volte appena l'altro giorno uno mi ha fatto 100 sape era solo lo stesso era sempre lui appunto che viva madre questa è una delle peggiori macchine che abbia mai visto il lavoro mamma ma rega macchina quella la che sarta udio si è un pilato subito ucciso come fa meno spam acciaiesco mamma mia che ho fatto una forleo alla coda stappo proprio lo champagne stappo ok grazie per il sapro benvenuto ok forlè va bene forlè va bene va bene va bene va bene va bene forlè va bene andamogli addosso forlè dai vienmi addosso forlè che cos'è sta roba no ragazzi ragazzi i camion i camion ma era ovvio ma era ovvio secondo quale logica guarda il maestro tuvi madonna marzo c'è ma tipo respira ziii ma perchè ma sto passo pure a cura porco dio stretto de gigi terra che che non i prosciutto e mozzarelline no nooo nooo porto di dio ziii mi sto ti giuro sulla madonna mi sto incassando schizzo male adesso mi seri feschi tutto fesco mi seri mi feschi tutto fesco i prodotti della mia terra no sto per cadere no non me lo metto tu sei molto gentile il mille dell'e no ma ti prego ma l'ho preso il checkpoint ti prego no eh ti prego non mi di no che 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 gara di abbastanza particolare che bella ci pianto perciamere un po' una buccia niente caffiolino fra solo la lecce la lecce dammi la lecce dio della puntana maledetta ma non ci vuoi fare sto pezzo penso che se il fazone arriva a scoprire una roba del genere è finita porca ma c'ha il ghiaccio sono tollerate vai dio cane vola vola re dei sei sentieri grandioso dai ti prego ma come cazzo non la devo trollare 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 te prego già mo te prego per una volta nella vita impegnati grazie ma grazie ma grazie dai cazzo si si aia aia ma chi lo sa con un camion chi è chi è chi è madonna ma oddio riprendi il maestro ma te credo riprendi il maestro guarda che sei noiavo e still fight significa che non è questione d'aiuto che evidentemente sei scarso si fa subito alla prima botta allora eh boh per falle dello stomaco tu dammi l'insetticida io voglio ridisegnare il mondo per favore tendi a darmi una cosa è capitato esclamazione di persone così basse che non le vedo nemmeno con il telescopio ma che cazzo c'è il cazzo che cazzo madonna ma è impossibile sta parte eeeh arrivo arriva arriva il tocus è pazzo no no di pochissimo uff vola tocus reddesti gli otto sentieri il tocus il tocus come l'ha fatta quell'altro elegante evidentemente il miglior non ci credo mi sono bloccato non ci credo non mi posso girare oddio la visuale dire senza nome su dark souls mio dio ma che cazzo è from software sto gioco il busta si è il busta ma non basta vieno un po' più sulla sinistra zio solo perchè so buono ti prego non mi ci arriva zi la roba che capita poche volte sono un no zi a me è finito io ho triggerato io non lo credo da quanto tempo stavo su percoce ma che fa ma che cazzo fa ma non hanno sti cazzo di camion sembra che sembrano stupidi sembrano niente il maestro ha pianto due tutta la gara vince che clown di merda porco dio che clown di merda che cazzo vuoi da me ho pianto per tutta la gara è ridicolo che se prendi la rincorsa non gliela fai la buffone sei un buffone guarda il giocatore più forte di aerei guarda il giocatore più forte di aerei no porco dio è di milano com'è chiama milano una cosa c'hanno ma sì fettina panata tutta la vita no 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 they want me dead or alive they want me dead or alive cioè perché non rischi no ma di nuovo il camion di merda ma basta per diana del bufalo basta basta porco di dio niente il maestro ha vinto by the way e anche oggi sì che bello dopo essere il migliore al gioco più bello di sempre fortnite sono forti anche nelle level asian di gta uuuu mi spieghi perché devo prendermi questa roba io porco dio porco guarda si ha pianto tutta la gara il privato primo gg gg pagarebbe non riuscivo a far manu secondo fine gara tra 30 secondi non la finisco come no non la finisco eh comunque è arrivato ringrazio tutti quanti cuore azzurro e con questo c'hai ragione